Siamo in un grande studio televisivo, perché il nostro studio è veramente grande, che tra poco si trasformerà in un paesaggio speciale, un paesaggio che racconta il mondo rurale. Tutto questo grazie ad Anna Kauber, scrittrice, regista, paesagista, perché lei ha fatto dello studio del paesaggio proprio il suo lavoro, da sempre, lo suo studio, anzi, anche studio proprio all'università. L'ultimo suo lavoro, poi mi taccio, è un viaggio durato due anni, 17.000 chilometri percorsi, 100 interviste, alle donne pastore, donne pastore, che nel nostro paese sono tantissime. Il film ha vinto il 36esimo Torino Film Festival come miglior documentario italiano. Allora, perché questo viaggio, Anna? È ben arrivata. Ma perché l'hai detto giustamente tu, la mia ricerca nell'ambito proprio del paesaggio rurale ha questo modo, che è attraverso la scrittura e anche le immagini, di essere conosciuto. Quindi io il mio sapere, diciamo, lo traduco attraverso la parola o le immagini affinché venga comunicato e venga condiviso con gli altri. Andare nelle terre alte dei pastori, quindi la montagna, era una sfida ancora più importante rispetto al fenomeno, se vuoi, dei ritorni in agricoltura. Cioè le donne pastore, i pastori in genere rappresentano quell'ultimo anello che ci porta alla manutenzione delle montagne, alla custodia delle montagne. Queste donne, chi sono? Età? Io dico età perché lo so, perché mi sono stata e mi sono preparata e ringrazio come sempre la mia redazione per questo. L'età proprio va da pochi anni, andiamo fino a... A tanti. A tanti, ma tanti, eh? A tanti. A tanti. Qual è la più vecchia incontrata? La più vecchia ha 102 anni, proprio perché il presente deriva dal passato e quindi c'è un anello che congiunge queste persone e questa narrazione a più voci che non sarebbe possibile senza la memoria del passato. Il lavoro pastorale, tra l'altro, non ha avuto una grandissima modifica. È un lavoro millenario, lo conosciamo, pre-romano, ma coi romani comunque la nostra penisola è stata fortemente improntata da questa civiltà pastorale, ancor più o comunque insieme a quella contadina. Quindi c'è proprio un tesoro si manifesta dentro questa civiltà. Allora, adesso noi facciamo una bella cosa. Andiamo a vedere delle immagini di questo film, poi vi racconterò come si possano prendere le pulci e spaventarsi, come si possano riprendere le pulci e dire, ah, sono solo pulci. Ma questa a me è riuscita forse non troppo bene, ma ad Anna riesce benissimo da raccontare. Allora, tutti attenti, tutti in silenzio e tutti a guardare le donne pastore italiane. Ripeto, due anni di viaggio e cento interviste, ma in realtà sarebbero state, anzi, sono ancora molte di più, ma guardiamo. E ho levato i figli, i figli un po' ce l'hanno, poi sono scappata con le pecore, però... è sempre tutto bello, perché c'è il giorno bello, però anche dei giorni che fa freddo, bisogno farli. Però non ti pesa. Andare in fabbrica a me mi peserebbe, perché sei una catena. Cioè, in fabbrica, una persona ha una catena. Deve fare, produrre, ma produrre alla maniera che vogliono voi. Guardate questa donna, poi dopo entriamo anche sulla storia di questa pastora. Essere donne che lasciano, non lasciano la famiglia, ma invece di andare in fabbrica, loro vanno a prendersi cura dei loro animali. Che realtà è? Girando per tutta Italia, perché il viaggio è stato più o meno lungo tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tranne la Liguria. Non ho trovato presenze femminili pastorali in Liguria, ma tutte le regioni d'Italia sono state attraversate. E che cosa ne è emerso? Che donne sono? È molto sfaccettata la composizione. Abbiamo donne che provengono anche da un'istruzione molto alta, laurea o addirittura doppia laurea, che in età sempre giovane ma appena più matura vanno in montagna a fare questo lavoro. Quindi è una scelta davvero forte e meditata. Ci sono quelle invece che restano e prendono in mano il lavoro che facilmente era più del nonno rispetto al genitore, proprio per quella grande cesura che c'è stata col mondo rurale, sia contadino che quello della pastora, proprio nel dopoguerra. Quindi un'intera generazione che è confluita in città e ha rinnegato questo lavoro che in verità è massacrante, era massacrante e in più poco tutelato come era un tempo. Allora, quando io dico aneddoti non è. Aneddoti è curiosità, ma intendo dire vivere per due anni a strettissimo contatto. Ho citato le pulci perché è un episodio molto divertente. Tolti qualche volta che è riuscito a dormire in albergo, il resto era dormire con loro. Sì, il più possibile con loro, perché non erano interviste, erano condivisioni, relazioni. Erano dialoghi? Erano dialoghi, era un mettersi in gioco anche mio. Io non andavo lì per rapinare interviste e storie, ma ero lì per conoscere e anche per farmi conoscere, per avere uno scambio ed effettivamente questa è stata la carta vincente. Prima che mi ha dato l'accesso a loro, perché se fossi andata lì con una truppo o comunque con una maniera appunto, mi viene da dire predatoria, vengo e tu mi racconti. Ma no, e loro infatti già riconoscendo in me questo approccio di donna da sola, perché ero in solitaria, che va e non giovane, quindi anche con questa forte tranquillità da parte loro, di poter dare dare a una persona che sapeva tesaurizzare questa loro storia. E loro mi accoglievano magari dicendo, ma che cosa ti dobbiamo dire? Io dicevo, ma niente, andiamo al Pasquale, la narrazione arriverà. Perché stavo con loro non meno di due giorni, quindi il tempo era quello che facilitava questa immersione, questa unione, questa sorellanza. Mi viene da dire che con ognuno di loro, e lo voglio dire quasi miracolosamente e istantaneamente veniva creata. Ma la sorellanza scatta quando ti puoi fidare dell'altra. Sì. Quando capisci che l'altra vuole narrare la tua storia, non la vuole sfruttare. No, esatto. Non la vuole riprendere, fotografare, filmare. Grazie, arrivederci, ciao, non è questa la cosa. Insomma, Anna prende le pulci. Ah, le pulci! La prima volta è stata drammatica. Ricordo che era appunto a casa di una di loro, eravamo tornate poi dalla stalla e mi abbasso i pantaloni da sola, poi invece, visto che eravamo da soli io e lei vado e dico, cos'è sta roba? Vedevo di un, di un, delle cosine. E lei mi ha guardato e ha detto, le pulci? E mi sono sentita morire. Morire! Ma questo è assolutamente normale. Morire! Questo è assolutamente normale e ti rende, passo al tuo, umana, no? La seconda volta... La seconda volta cambio regione, cambio situazione e passa il tempo, mi faccio di nuovo quest'operazione, ding, 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 e mi dico da sola, alle pulci. Ebbè, fantastico. Ebbè, quello alle pulci. È il momento in cui sei salita, sei salita. Allora, guardate questa donna, questa donna pastora, non riesco a dire bene il nome, ma Prizzetta. Questa è Elia, è subito dopo Elia. Allora, cerchiamo tra un attimo, insomma, succede che c'è una signora, pastora, che non vuole saperne di colloquiare, no? No. Ero da, a intervistare un'altra pastora, ero in Cilento, quindi sopra Salerno, e ero a intervistare un'altra, eccola, questa è Prizzetta. Prizzetta, eccola qua. E quella sono io, e ci assomigliamo in un certo senso, secondo me. Vabbè, comunque, Prizzetta, vado a intervistare, in verità intervistavo Alessandra, ero con lei, sono stata da lei 3-4 giorni, e le ho chiesto, c'è, ci sono altre presenze sul territorio di donne pastore? Lei mi dice, sì, sì, c'è una, c'è la Prizzetta, però lei non si fa intervistare, guarda, anzi, anche con noi non scambiamo parole, se ti vede ti lancia il bastone. E io l'ho guardata, e con la mia solità, ho detto, vedrai che io ci riesco, portami da lei. Ma veramente no, portami da lei, vedrai che io la convincerò, convincerò Prizzetta. Poi le chiedo, ma cosa vuol dire Prizzetta, che nomignolo è? E lei, ah, non so come si chiama, chiama il suo figlio, come si chiama, che nome è Prizzetta? Boh, Prizzetta, con paesani, vabbè. Vado da lei e Prizzetta la chiama l'altra, Prizzetta vieni, allora arriva lei, c'è le capre, le pecore, cosa vuoi, cosa vuole sta signora da me? E dice, vorrebbe conoscere la tua storia. E lei mi guarda, Prizzetta, con questo cappellino, questo sguardo super intelligente, è veramente indagatore che ti mette a nudo, no? Io avevo lasciato la videocamera in macchina proprio per non... E lei dice due cose, la vedo reticente, a un certo punto ho un'illuminazione che non so come mi sia venuta, ma proprio un'illuminazione di... Si chiama intelligenza. Non lo so, è proprio... Ma, azzardo, il tuo nome è Brigida, Brigida. Lei mi guarda con un sorriso fino a qui e dice, sì, mi chiamo Brigida. Si è sentita chiamare per nome, non è poco. E non è poco. Non è poco. Neanche i suoi compaesani sapevano che lei si chiamava Brigida. Allora, tutto questo accade, ribadiamo, solo quando tu non vuoi raccontare una storia per raccontarla, ma quando tu diventi quella storia, entri in quella storia, la fai tu appunto tale che... E questa è stata la grandezza di Anna Caubre, io glielo dico... Non sono solo io a dirglielo, insomma, voglio dire che in questo mondo, questo film, ripeto, ha vinto premi molto importanti. Racconta che queste donne sono una spina dorsale del nostro paese e noi non lo sappiamo. Noi che viviamo in città, noi distratti, non lo sappiamo. Certo. E ha raccontato a loro che sono importanti, ben più di quanto non sappiano. Purtuttavia, che commenti ci sono stati alla prima? Perché alcune sono state anche invitate. Sì, sì. Erano lì alla prima, mi hanno reso questa gioia incredibile di venire a Torino, dalla Calabria, dal Cilento. C'era Prizzeta. Sì. Che si muoveva dal Cilento per la prima volta, la figlia l'ha portata su. Era la seconda volta che andava al cinema? Sì. Se non va verrà, no? Sì, sì. E ce n'erano altre. È stato un momento di grande commozione per me, perché questo lavoro è davvero per loro. È un riconoscimento che do io, ma che chi vede il film dà a loro, rendendosi conto di che questa proprio l'hai definita bene. Loro hanno un'importanza, come gli altri pastori, ma comunque quelli che restano, perché ci custodiscono e preservano e presidiano questi luoghi della montagna per lo più abbandonati, con una perdita, non dico quotidiana, ma progressiva di biodiversità, che costituisce questa fragilità anche idrogeologica ormai che noi viviamo, proprio per l'abbandono di questi luoghi, nonché un impoverimento culturale pazzesco, perché perdere questi saperi, questo modo di stare con gli animali, di vivere a contatto con queste cose, preservandola, è un ruolo incredibile. E un'ultima battuta, Anna Kauber, non le posso definire attrici perché sono tutte vere, ma cosa hanno detto di loro stesse? Loro sono state, credo, si sono subito riconosciuti innanzitutto nel modo, quindi davvero questo legame è stato a prescindere dal film. Il film che ha montato Esmeralda Calabria, quindi una grande montatrice, fra le più grandi del panorama nostro italiano, si sono sentite riconosciute in questa cosa, anche quelle che non sono presenti, perché su 100 donne nel film ce ne sono 18. Purtuttavia c'è questo mondo, quel mondo è stato rappresentato. Allora, Anna Kauber, ribadiamo, questo film in questo mondo, andatelo a cercare per vederlo ed applaudirlo. Le donne pastore in Italia, due anni di un lavoro bello, di valore, fatto con il cuore. Grazie, Anna. Grazie a te. Grazie. I vesti spalancate, l'ora solare ritorna tra un istante. Non chiudete la finestra, mi raccomando. A tra poco. Grazie. 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 Grazie.